Morte Roberta Repetto, i giudici ha scelto liberamente quanto scrivono in sintesi i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Genova nelle motivazioni della sentenza di assoluzione di Bendinelli. Il cosiddetto Santone del centro Anidra di Casali di Sti Biveria, Borzonasca, in Vallestula, è stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi insieme al medico Neda. Per quest'ultimo i giudici avevano ridotto la pena a un anno e quattro mesi. La Corte d'Appello di Genova ha depositato le motivazioni della sentenza di secondo grado relative al processo per la morte di Roberta Repetto, la quarantenne di Chiavari, morta nel 2020, due anni dopo che ne era stato asportato un melanoma al centro Anidra di Casali di Sti Biveria, a Borzonasca, in Vallestula. Il processo di secondo grado si era concluso con la condanna di Paolo Neda. Ad un anno e quattro mesi era assoluzione di Paolo Bendinelli. Duro il commento della sorella di Roberta Repetto, Rita Repetto, che dice Prendo atto che per il Tribunale di Genova mia sorella ha scelto liberamente di morire a 40 anni con l'aiuto del dottor Oneda e che Paolo Bendinelli non rivestiva nessuna posizione di garanzia nei suoi confronti, in quanto per i giudici Roberta si sarebbe liberamente orientata verso l'opzione per uno stile di vita naturista che abbia autonomamente ricercato una profonda conoscenza di sé. Sempre per i giudici Roberta Repetto poteva chiamare un'ambulanza nel momento del bisogno. Per la giustizia italiana, conclude la sorella, mia sorella si è praticamente suicidata. Questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavori sono intervenuti a Sestri Levante, nello specifico nella frazione di San Bartolomeo in via Monsignor Vattuone per l'incendio di un camino. Grazie all'uso dell'autoscala sono riusciti a raggiungere velocemente il tetto e spegnere le fiamme, che fortunatamente non hanno raggiunto le travi in legno sottostanti. Domani, mercoledì 24 aprile alle ore 16, si svolgerà il sopralluogo al tunnel di Torza in occasione della riapertura al traffico a senso unico alternato della galleria che si trova tra le province di Genova e La Spezia, ovvero tra Castiglione Chiavarese e Maissana. L'appuntamento è all'ingresso lato Maissana della galleria all'altezza del ponte di Torza. Saranno presenti l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, i rappresentanti di città metropolitana di Genova e provincia della Spezia, nonché i sindaci dei territori coinvolti e i tecnici di ANAS. Era agli arresti ai domiciliari, ma in più occasioni ha violato la prescrizione a suo carico. Così i carabinieri sono dovuti intervenire a Ciccagna, in Fontana Buona, presso l'abitazione dell'uomo, un cinquantenne di nazionalità italiana, per arrestarlo. Il cinquantenne si trova attualmente nel carcere di via al gasometro a Chiavari. I poliziotti del commissariato di Chiavari hanno dato esecuzione ad una custodia cautelare in carcere messa dal Tribunale di Genova a carico di un ventenne per reati inerenti allo spaccio di droga. Lo stesso era già stato arrestato lo scorso mese di novembre insieme ad un altro soggetto per il reato di sequestro di persone a scopo di estorsione legato ad un debito per motivi di droga, avvenuto a Lavagna nel luglio del 2023. A seguito di questo fatto, la squadra investigativa del commissariato di Chiavari ha continuato nell'attività di polizia giudiziaria, che ha fatto emergere che il ventenne aveva organizzato una fiorenta di vita di spazio nel Tiguglio e per svolgere tale attività si avvaleva di alcuni soggetti di minore età, utilizzati sia per custodire lo stupefacente che per effettuare le consegne. Nella maggior parte dei casi i minori erano consapevoli del reato che stavano commettendo e ricevevano sostanze stupefacenti del tipo leggero in cambio del trasporto, della custodia della droga. Alcuni di questi ragazzini sono stati segnalati alla procura dei minori di Genova, mentre altri erano ignari di partecipare all'azione delittuosa, essendo utilizzati come corieri dietro alla richiesta di un semplice passaggio in motorino che celava un'illecita consegna. Durante l'attività investigativa sono stati sentiti numerosi acquirenti, alcuni dei quali di minore età, che hanno tutti confermato l'attività illecita che ha portato anche all'arresto in flagranza di reato di due giovani residenti nell'entroterra e al deferimento all'autorità giudiziaria di altri tre soggetti per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e al sequestro di circa un chilo e mezzo di hashish e 300 grammi di cocaina nonché denaro contante. A Sestri e Levante sono in corso di realizzazione diversi interventi per il miglioramento delle infrastrutture urbane, con particolare attenzione alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. Nel corso di queste settimane sono stati eseguiti interventi in diverse zone della città. È stata recentemente riparata la scala di accesso alla spiaggia di Sant'Anna attraverso la realizzazione di nuovi gradini. È stato completato il riposizionamento dei basoli in pietra della pavimentazione di Corso Colombo in corrispondenza dell'attraversamento pedonale oltre alla riparazione del marciapiede in via Unione Sovietica e il rifacimento di alcune posizioni di pavimentazione dei portici di Piazza Aldomoro. Prosegue la riparazione di zone di asfalto dissestate dalle intense piogge su gran parte delle strade cittadine, sia del centro sia nelle frazioni. Nelle prossime settimane sono programmati ulteriori interventi di manutenzione presso il lungomare Caniglia Brea in cui è prevista la sistemazione dei rivestimenti e delle pavimentazioni in pietra. In via Pile d'Equirolo è programmata la sistemazione dei rivestimenti in pietra e dei muretti. In via Dante Sedini e Giardini Maria Leventre nelle aree di Mitrof è programmata la sistemazione delle pavimentazioni danneggiate dalle radici degli alberi. In via Bruno Primi, nei presti dello stadio Giuseppe Sivoli saranno eseguite modifiche alle aree di sosta veicolare oltre al risanamento del muro d'agine del rio Battana. Queste azioni rientrano nel quadro del miglioramento del decoro urbano e della manutenzione della città e sono finanziate dal comune di Sestriavante attraverso fondi propri tramite l'accordo quadro che prevede un importo complessivo di 185 mila euro. È terminata la progettazione di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria per asfaltature con un finanziamento di 250 mila euro che saranno eseguiti nei prossimi mesi. Nelle giornate di giovedì 25 aprile di mercoledì 1 maggio i servizi di raccolta dei rifiuti e di spazzamento nei comuni serviti da Aprica nel Golfo del Tiguglio non subiranno variazioni. In entrambe le giornate infatti i centri di raccolta, gli infopoint, il centro servizi e il centro del riuso resteranno chiusi in tutti i comuni. Invece a Rapallo il centro di raccolta e l'infopoint saranno aperti la mattina sia il 25 aprile che il 1 maggio.